Allora si esimilano in alcune tecniche di randoli, randoli praticamente si fa in palestra che viene praticamente insieme all'uscitore, i movimenti ripetitivi e poi i randoli sono praticamente dei piccoli, degli allenamenti che sono dei veri e propri combattimenti insomma e quindi si vanno in palestra per essere pronti nella fase di agonistra Questo è il lavoro che si può imparare per il mio padre che è piaciuto, oltre alla preparazione fisica La tecnica si tratta di uno alla nava, che era un maestro che mi ha impegnato, una tecnica fatta mille volte, solo per mille giorni E' un po' di più, avremo il mio avvento di una tecnica fatta l'ultimo rando di gol